Una viabilità al passo con i tempi e interventi urgenti sulle disastrate strade provinciali. Lo chiede il Presidente della provincia di Campobasso, nonché Sindaco della città, capoluogo di Regione, Antonio Battista, il quale però non condivide l'idea lanciata dall'assessore regionale Vincenzo Niro sulla circunlacuale e lancia la proposta di un nuovo viadotto sull'Iscione. È bene che l'assessore abbia riportato all'attenzione del dibattito politico questo argomento, perché poi si metteranno al lavoro altre persone, altri soggetti, ma insomma è un merito aver riportato di attualità quello che è una necessità del Molise. Io penso che il Molise si debba dotare intanto di strade di qualità, lo può fare certamente potenziando l'attuale assetto stradale. Ecco, voglio dire, la statale 87 deve essere ultimata, perché ci sono delle comunità, ma può essere una valida alternativa per eventuali deviazioni di traffico, così come va collegata la Trignina con la Bifernina, attraverso la strada attualmente provinciale, ma fra qualche giorno passerà all'ANAS, quella che passa per Trivento, ma anche la 163, quella che passa per Lucito, quindi collegamenti trasversali che vanno a unire la Bifernina con la Trignina, così come dovrà essere potenziata l'attuale provinciale, anche questa passerà tra qualche giorno all'ANAS, che dal bivio di Casa Calenda della Bifernina porta a Casa Calenda e quindi poi da Casa Calenda occorre attrezzare l'asse viario che porta fino alla stazione di Bonefro. Per quanto riguarda la Bifernina, dove eventualmente raddoppiare? Ripeto, bene che se ne discuta, ma insomma io direi che non è neanche da escludere la possibilità che si possa passare ancora a fianco all'attuale asse viario che passa nel lago. Lo dovranno decidere i tecnici, i progettisti, probabilmente dovranno anche deciderlo i geologi per capire qual è il punto, il passaggio migliore, però anche questo non è una soluzione da sottostimare. Io poi mi dovete consentire, insomma, noi stiamo parlando di strade, ma le strade sono comunque soggette a dei limiti e a dei condizionamenti. Io penso che sia di attualità anche riprendere finalmente il dibattito sulla utilità della strada ferrata, del collegamento Campobasso-Termoni. Ci vogliono appunto i soldi, i problemi di finanziamenti ci stanno? Sì, ci sono. Intanto c'è la questione finanziamento per la progettazione, quindi elaborare un preliminare con tutti i rilievi puntuali che si possono fare è un modo per poi poter dire che servono queste risorse finanziarie e quindi chiedere il finanziamento al Governo nazionale. E poi c'è la tappica questione delle strade provinciali di sestate. Lì ci rimettiamo nelle mani del Governo. Non abbiamo altra scelta, non abbiamo altre alternative. Le strade provinciali sono un'eccellente alternativa nel momento in cui nascono delle criticità, ma devono stare in eccellenti condizioni. Noi non possiamo continuare a permettere che le strade provinciali siano piene di buche e piene di abballamenti e addirittura possono risultare in alcune circostanze pericolose. Lei deve immaginare che la provincia di Campobasso avrebbe bisogno almeno di 20 milioni all'anno per eseguire la manutenzione ordinaria. Ne riceviamo dallo Stato soltanto un milione in questi anni.